Un organo speciale che coinvolge i ragazzi aiutandoli a formarsi nel mondo della politica. Questo è lo scopo primario del Consiglio Comunale dei Ragazzi che a Terra Nuova Bracciolini è stato rinnovato lo scorso ottobre e che in questi giorni ha illustrato alcune interessanti iniziative in cui loro, proprio i ragazzi ed il loro parlamentino, saranno i protagonisti. Anche quest'anno siamo arrivati al momento più importante del Consiglio dei Ragazzi. Questa mattina abbiamo voluto organizzare l'intervista proprio nel nostro istituto comprensivo perché è qui che si svolge l'attività prevalente del Consiglio. Questo mese di aprile sarà un mese molto importante per le attività che stiamo svolgendo. Qui sono presenti alcuni rappresentanti. Non abbiamo il Consiglio incompleto perché ci sono altri impegni da assolvere. Allora ascoltiamo cosa hanno messo in cantiere i ragazzi di questo particolare Consiglio Comunale. Il Consiglio dei Ragazzi è un organo eletto dalla scuola che serve per passare ore per discutere sui vari argomenti riguardanti l'istituto. Il Consiglio dei Ragazzi sarà impegnato in diverse date, tra cui il 1 aprile presso l'Aula del Consiglio parleremo delle dipendenze con la Prefettura. Il 20 aprile saremo ospiti nel Consiglio regionale e mentre il 29 aprile sempre presso l'Aula del Consiglio faremo un incontro con la Polizia di Stato e parleremo dei social. Con il Vicequestore aggiunto, Dottor Mancini Proietti.